Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento metodo di TRG. Andiamo ad analizzare la situazione per quanto riguarda la nostra penisola e in generale il bacino del Mediterraneo, situazione che vedrà una debole perturbazione arrivare nel fine settimana, perturbazione che condizionerà il tempo soprattutto nel nord Italia ma anche parte del centro. Come possiamo vedere dalla seconda cartina la situazione dell'Italia, infatti vedrà tempo più fresco e stabile soprattutto nell'area penninica e nell'area alpina, mentre sole e caldo con giornate anche torride nel sud Italia, isole comprese. Vediamo ora cosa accadrà per la nostra regione per venerdì 21 giugno, giornata che sarà ancora calda e soleggiata per tutto l'arco della stessa. Avremo infatti cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi per tutto l'arco della giornata con le ore centrali della giornata dove avremo una forte sensazione di caldo. Avremo sia le temperature minime che le temperature massime stazionarie e di qualche grado sopra la media del periodo, con le minime che si attesteranno intorno ai 14-16 gradi, mentre le temperature massime saranno comprese fra i 31-34 gradi. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.